ciao a tutti amici benvenuti alle letture al commento di lunedì 30 ottobre sta finendo questo mese fantastico e oggi la chiesa ci propone questa liturgia sulla lettera di san paolo apostolo ai romani dove si parla di carne e di spirito bellissimo sapete dentro di noi davvero c'è una doppia natura in un certo senso oddio il nostro spirito noi siamo spirito anima e corpo questo lo dicono i padri della chiesa è praticamente la trinità all'interno di noi siamo uno come dio ma siamo anche trini abbiamo un corpo abbiamo un'anima e abbiamo uno spirito lo spirito viene immediatamente rigenerato nel momento in cui noi crediamo in gesù sinceramente il nostro spirito viene salvato completamente è il nostro io spirituale la parte più vera di noi quella che veramente ha la natura dei figli di dio ma la nostra anima cioè quella parte invisibile di noi il nostro carattere le nostre emozioni sentimenti i pensieri le idee il nostro modo di di vivere questa vita forse anche la parte che esce di più fuori a volte dal nostro carattere il nostro essere davanti agli altri invece ancora combattute ancora da redimere e da una parte è condizionata dalla carne cioè inteso cosa non la carne non è fisica ma dai desideri di soddisfare i bisogni carnali dall'alto invece da quello dello spirito appunto da tendere invece verso le cose del cielo la giustizia l'amore la verità la santità la purezza ecco che quindi la nostra anima è tesa da una parte appunto dalla carne e una parte dallo spirito ed è quello che ci dice proprio san paolo fratelli noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali perché se vivete secondo la carne morirete se invece mediante lo spirito fate morire le opere del corpo vivrete infatti tutti quelli che sono guidati dallo spirito di dio questi sono figli di dio e sta dicendo proprio questo che noi dobbiamo decidere se lasciare che sia la carne a guidarci quindi il bisogno di mangiare bere soddisfare desideri sessuali tutto quello che che la carne necessita e ha bisogno e che viene traviata però dal nemico e quindi ci porta lontano dalla fede dalla giustizia oppure dallo spirito dalla conduzione che fa lo spirito santo nel dialogo verso di noi lo spirito santo ci parla e la nostra anima è chiamata a farsi plasmare a farsi redimere dallo spirito e non invece dalla carne che è una voce da un certo punto e in più c'è la voce del diavolo che dice no no soddisfa solo i tuoi bisogni le tue necessità e quando io vado dai giovani a fare incontri giorni per spiegargli questo gli faccio proprio questo esempio prendo un ragazzino una ragazzina normale di media statura di media corporatura in mezzo e dico vedi tu sei la tua anima ok e poi prendo invece un altro ragazzo sulla destra di stessa più o meno corporatura dico ecco questa invece è la carne e poi un'altra ragazza o ragazzo della stessa corporatura che invece rappresenta lo spirito alla sua sinistra e gli dico ora carne e spirito provate a tirare le braccia dell'anima ok di voi allora si vede che tirano ma ovviamente essendo tutti di media corporatura lei è ferma dico ecco bene se voi invece iniziate a nutrire a desiderare solo i bisogni della carne a nutrire questa carne che in voi e allora faccio venire un ragazzo grosso e gigante a fare la carne alla destra della ragazzina e invece denutrite lasciate morire di fame il vostro spirito e faccio venire una ragazzina esile dall'altra parte guardate cosa succede ovviamente tirando le braccia della vostra anima viene tutto teso verso la carne e questo che è una cosa simpatica però è una realtà spirituale per noi cristiani davvero incredibile dobbiamo imparare a capire che c'è una guerra dentro di noi e che dobbiamo iniziare a nutrire lo spirito a discapito della carne ci sono desideri della carne che sono anche giusti ma devono essere sottomessi invece alla vocazione missionaria dello spirito solo così allora la nostra vita prenderà la direzione della santità e santità non vuol dire essere santini mistici vuol dire vivere la vita veramente conoscere gesù veramente le realtà del cielo veramente iniziare a essere potenti nello spirito di dio vuol dire che quando ci siete voi e parlate coloro che sono legati oppressi vengono liberati coloro che sono malati vengono guariti coloro che sono disperati ritrovano speranza vuol dire diventare protagonisti della vita cristiana della missione di dio su questa terra per tutti i suoi figlioli volete essere dei soldatini che non sanno neanche cosa devono fare o dei generali dei cavalieri dei guerrieri pieni di onore medaglie al valore dell'opera di dio perché un giorno ci troveremo davanti a dio e ci verrà chiesto cosa abbiamo fatto della nostra vita una volta che abbiamo conosciuto gesù cristo cosa siamo stati spettatori o protagonisti la vita è breve fratelli e sorelle dobbiamo prendere la via dello spirito ed è bello perché lo spirito santo ti sa toccare in una maniera che neanche la carne neanche desideri della carne possono possono fare la carne è un'acqua che ti farà avere ancora più sete sete se non ti soddisfa mai ma lo spirito di dio ti sfama ti disseta ti porta a un livello superiore e sapete l'unico modo per resistere ai desideri della carne perché purtroppo il nemico fa crea delle vere dipendenze in noi quando cadiamo nel peccato negli eccessi del cibo della pornografia di tutte queste cose qui voi lo sapete è difficile uscire noi diciamo no non voglio seguire la carne ma poi ci ricadiamo siamo come schiavi l'unico modo l'unica strategia ascoltate bene è iniziare a vivere una vita di preghiera se tu vivi una vita ardente di preghiera in cui i tuoi pensieri sono costantemente rivolti al signore alle cose del cielo quindi nutri lo spirito vedete che gli effetti dei desideri della carne diminuiscono quando capiteranno certe tentazioni voi sarete più forti dite no 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 non mi interessa no no non voglio vi rialzerete prima anche quando cadete ecco perché dobbiamo nutrire lo spirito come attraverso il cibo della preghiera la preghiera del cuore quella che viene da qua da questo cuore che che è amore amore verso dio lasciamoci innamorare di cristo mentre preghiamo bene con questo allora vi esorto in questi tempi difficili lo vedete preghiamo per la pace in israele sta succedendo di tutto e questo non va bene vi esorto a pregare e a diventare i veri guerrieri di cristo vere profetesse di cristo per fare la differenza in questo mondo in questi tempi con questo allora vi saluto mi raccomando iscrivetevi condividete questi video mettete like facciamo crescere il vangelo di cristo nel mondo ma per il momento vi saluto vi voglio tanto bene che dio vi strabenedica ciao grazie a tutti Grazie per la visione!